Siamo amici da una vita e ci conosciamo veramente da tantissimo, quindi il nostro rapporto è più che buono. Però non siamo mai stati compagni di squadra, quindi sarà una cosa nuova anche per noi. E non abbiamo mai corso uno contro l'altro, quindi adesso vediamo se continuiamo a essere amici o se ci scagneremo un po'.